Siamo in piena crisi climatica, in realtà gli ultimi anni ci hanno dimostrato non solo che le cose non stanno andando meglio, ma anzi che tutti i parametri legati ai cambiamenti climatici sono in fase di accelerazione. L'aumento dei gas serra in atmosfera, l'aumento delle temperature globali, l'inalzamento del livello del mare, lo scioglimento dei ghiacciai, l'aumento di eventi catastrofici legati al riscaldamento globale, stanno tutti non solo aumentando, ma accelerando. Quindi è molto importante che si agisca subito per evitare di superare quelle soglie al di là delle quali poi non si tornerà più indietro. Oggi noi sappiamo quali sono queste soglie, che sono andate fuori dal famoso accordo di Parigi del 2015, quindi un riscaldamento globale al di sotto, ben al di sotto, dei due gradi centigradi rispetto ai valori preindustriali, quindi un grado più o meno rispetto a quelli attuali. Sappiamo anche che è possibile raggiungere questo obiettivo con delle politiche di cosiddetta green economy, quindi sostanzialmente decarbonizzazione del sistema energetico, maggiore efficienza energetica, passaggio a fonti energetiche alternative e rinnovabili, riforestazione, economia chilometro zero, economia circolare ed anche politiche legate all'alimentazione, quindi diminuire l'uso di carne e soprattutto diminuire gli sprechi alimentari. Sappiamo che si può fare, abbiamo le tecnologie, sappiamo anche che bisogna agire da subito perché più si aspetta e più sarà difficile raggiungere gli obiettivi, perché i gas aerea si accumulano nel tempo, quindi più aspettiamo e più si accumulano, quindi è sostanzialmente una decisione politica. Non è una decisione facile perché riguarda il comportamento non solo individuale ma anche di diverse nazioni e tutte le nazioni hanno diverse esigenze. Nelle nazioni già industrializzate questa transizione ecologica sta già avvenendo, nelle nazioni emergenti come Cina, India, Sud America, Africa, purtroppo sono ancora in fase di pieno sviluppo ma con l'uso dei combustibili fossili, quindi è molto importante che ci sia dal nostro lato un cambiamento culturale verso la transizione ecologica e d'altro canto una trasmissione di tecnologie verdi dai paesi industrializzati ai paesi più poveri ovviamente a costi contenuti. Questo si può fare, tocca a noi, tocca alla società civile e soprattutto alle nuove generazioni che poi saranno quelle più colpite dai cambiamenti climatici se non si farà niente per fermare questo problema che purtroppo ripeto è in fase di accelerazione.